Per te, imprenditore, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere complesso e oneroso. Per questo è nata impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. Entra senza nessuna registrazione, con lo speed o con la carta nazionale dei servizi. Potrai consultare anche immobilità, visure, bilanci e fascicoli della tua impresa, verificare le pratiche presentate al registro imprese o al SUAP e scoprire nuove opportunità di collaborazione con start-up e PMI innovative. Meno pensieri per la burocrazia, più idee per la tua impresa. Impresa.italia.it è sempre con te. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere.